Io adesso lascio la parola subito a un altro Roberto, Roberto Raso, che è responsabile dell'attività svolte dal Servizio regionale delle malattie infettive, quindi è il servizio che è incaricato dalla Regione e quindi dalla Sanità pubblica di gestire i sistemi di sorveglianza e di coordinare e indirizzare le attività di prevenzione e di controllo delle malattie infettive. Mi ha già anche promesso che cercherà di recuperare in parte, ma comunque non ci sono problemi. Il problema per questa giornata è interessantissima, ha già fornito tantissimi dati, tantissime informazioni, come è stato sempre anche citato, oltre che da studi, anche proprio da sistemi di sorveglianza. Sistemi di sorveglianza di vario tipo, qua io devo parlare della sorveglianza sanitaria, che è un oggetto un po' specifico rispetto all'ambito delle sorveglianze. Sorveglianza sanitaria osserva stati di salute e di malattia, intendiamo però di solito comunità di misura, soprattutto gli stati di malattia animale o umana. Esistono diverse strutture che si occupano di questo per la sanità pubblica, in ambito veterinario, in ambito umano, nei dipartimenti di prevenzione. Io c'entrerò un pochettino, visto anche tutti i passaggi che sono stati fatti, magari un po' più sulla sorveglianza umana, ma i principi sono gli stessi. Qualunque tipo di sorveglianza di sanità pubblica di per sé osserva un oggetto ed è una specie, per chi opera nella prevenzione, è una specie di coltellino multiuso. Permette di avere dati e informazioni, se ben raccolti, non sempre tanto è possibile, comunque dati e informazioni per la programmazione degli interventi, per la misura stessa degli interventi ed altro, ma anche proprio per condurre in tempo anche reale, molto spesso, gli interventi di prevenzione. E poi fornisce dati, come vedo anche piacevolmente, di riflessione per poter andare avanti su ulteriori cose. Purtroppo, come diceva l'intervento anche prima, troppo poco c'è. Sarebbe possibile, ma anche con poco sforzo, secondo me, fare molto di più. Anche poco sforzo e pochi costi. Il problema tante volte è anche un po' di percezione e di cultura, secondo me, più che solo di risorse. Poi le risorse servono per combattere, non so come dire altre cose. I sistemi qua, questo qua piemontese di cui ci occupiamo, ma che si occupano poi tutta Italia, che ci sono un sistema informativo per le malattie infettive, che prevede una sorveglianza, diciamo piuttosto semplice, di un sistema di notifica obbligatorio con alcuni spaccati di approfondimento e sistemi di sorveglianza speciali. Tutti questi qua in Piemonte transitano, secondo il classico percorso, clinici le ASL, qui abbiamo un centro in cui lavoro io, che si occupa di farlo da snodo di tutti i sistemi di sorveglianza, poi prosegue, Ministero, Istituto Superiore di Sanità, organismi internazionali ed altro. Sono, come dicevo prima, noi lavoriamo molto legati dove è anche possibile all'intervento della pratica, infatti il nostro servizio si occupa oltre che dello snodo informativo della sorveglianza, di cui parliamo eccetera, poi anche del coordinamento della rete di sanità appunto di contatto per emergenze infettive date, perché pensare alle sorveglianze solo come un oggetto contemplativo è una brutta fine che facciamo per quanto riguarda l'attività della prevenzione. Dicevo, servono per programmare, per avere una valutazione d'impatto, qua io ho portato proprio un dato molto brutale di numerico eccetera, del 2011, un po' le sorveglianze speciali importanti e i sistemi di notifica, così come raccogliamo i dati e vediamo che il quadro, e ripercorro un po' le cose che sono già state dette, il quadro per quanto riguarda le malattie trasmesse da vettori che sono quelle che ci interessano, e questo qua si inseriscono in questi numeri. Questo è un'indicazione, non è certamente l'unica su cui dobbiamo muoverci, ma è un'indicazione di quello che è l'attuale impatto di salute. Questi 77 casi che abbiamo di malaria, poi noi li affettiamo in 3.000 modi, sono quelli che si dice casi di importazione, soprattutto viaggi in paesi di origine, fasce di età particolare e così via. Notiamo appunto anche un po' la leishmaniosi, probabilmente più si scende meno nei sistemi rutinari sono come dire oggetto d'attenzione anche da parte dei clinici, quindi un po' più di sottonotifica probabilmente c'è. Dengue quest'anno abbiamo visto solo un caso, certamente non basta guardare la fotografia, poi i sistemi li affettano come dicevo in tutti i modi, in questo ad esempio qua io ho portato i casi di malaria di dengue, abbiamo notato prima, ovviamente cikungunya e West Nail Zero nell'uomo, come vedete il trend non è particolarmente preoccupante, caso di malaria eccetera, certamente si nota una differenza tra, anche nel corso di questi pochi decenni di osservazione, malaria importata, possibili serbatoi, per fortuna rischio basso, dengue, abbiamo un'oscillazione, un'oscillazione 7 casi nel 2010, un caso nel 2012 5, questi sono i casi notificati, poi il dottor Calderi ha una casistica ulteriore, anche di ulteriori approfondimenti per la dengue, di ricerche anche retrospettive, i numeri salgono, vanno poi valutati eccetera, però i trend ci danno un po' di informazione. Guardando questi dati qua uno dice, vabbè ma perché ci agitiamo tanto, tutto sommato non sono malattie particolarmente gravi, nel quadro di quelle che possono essere quelle gravi, le vedete qua, guardate la HIV, la tubercolosi, la sefilide, superano, possono diventarlo, possono dare focolare epidemici eccetera, però controllabili. Gli andamenti sono, sembrerebbe sotto controllo, ma è stato già parlato prima, non sto a ripetermi, tutto cambia, cambia nel corso della storia delle malattie nel corso dell'uomo. L'interazione, qua io ho portato vettori, patogeni, ospiti, non si restringe a questo ambito, abbiamo mille altre, io qua ne ho nominate alcune, determinanti o fattori influenti che fanno cambiare. Anche qua però uno dice, tutto sommato, se noi guardiamo staticamente, c'è sempre stato, l'urmanizzazione, viaggi, emigrazioni, tempi lunghi, ricordiamoci, malattie come morbillo, come il vaiolo, anche la stessa tubercolosi eccetera, sono legati a sedentarizzazione dell'uomo, rapporto con gli animali, concentrazione di numeri critici minimi di uomini, nascono queste malattie, sono tutte malattie di questo tipo, nascono, si diffondono, vanno avanti, siamo abituati a vederle nel corso del tempo. Quello che mi sembra che sia piacevolmente emerso, chiaro qua, perché non è tanto che sono cambiati dei fattori determinanti, è la velocità e l'influenza dell'uomo su questi fattori, che oggi fanno sì che andiamo con una velocità incredibile di cambiamento, di oltre agli scenari devastanti, di cui ci possiamo trovare di fronte al clima eccetera, comunque ci troviamo di fronte a un rimescolamento, pensiamo ai viaggi, all'immigrazione, all'urmanizzazione, sono tutti elementi che, dei quali se non teniamo conto, specialmente in questa esplosiva aumento, non riusciamo ad avere un quadro preciso, dobbiamo riuscire a prevedere. I sistemi di sorveglianza vedono parzialmente queste cose, possono però fornire elementi, come abbiamo visto, proprio anche legati a così possibili correlazioni con cambi climatici, in un caso ci sono studi, ci sono addirittura linee di lavoro internazionali che ne so su urbanizzazione e malattie, urbanizzazione e tubercolosi specifiche, ci sono tutte queste linee di lavoro. Bisogna, come dire, sempre di più mettersi in rete, preoccuparsene, come si dice, occuparsene un po' per tempo, siamo già un pochettino in ritardo. Comunque esistono, gli organismi sono stati nominati anche prima, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un occhio specifico sul cambiamento del clima, come vi dicevo, poi anche altre cose, che sarebbe bello riuscire ad avere poi un'ulteriore linea di lavoro che mette insieme un po' tutto, l'urbanizzazione, i viaggi e i cambi climatici, vedere l'interrelazione. L'ECDC è stato nominato in apertura di convegno, anche qua ci sono, ce l'abbiamo qua presente, non l'ho neanche nominato, l'Istituto Superiore di Sanità e l'altro che stanno lavorando. Tutto questo per ripercorrere un po' degli snodi di tutti quelli che ci siamo detti, però poi rimane sempre il che fare, che cosa facciamo per queste cose. Alcune linee sono state indicate nel intervento precedente, ci sono, poi tutto sommato, punti, se abbiamo chiara la conoscenza che proviene dalle studi, dalla ricerca, dalle sorveglianze ed altro, tutto sommato, dalla complessità riusciamo a nucleare le possibilità di intervento. E io qua riguardo per le malattie. In Piemonte ci siamo concentrati su quelle malattie che sono state nominate prima, Cicungunya, Dengue, West Nile, si sta lavorando molto. Ci sono in atto, in modo differente ovviamente per ogni patologia, sorveglianze speciali nazionali che osservano il fenomeno secondo degli standard, in più ci sono specificità ulteriori di sorveglianze entomologiche, di sorveglianze veterinarie, in più delle attività, ancora mai è sufficiente tutto, per l'attività di controllo sui vettori, questo qua va avanti bene in ambito risicolo, in ambito urbano si sta da qualche anno lavorando un po' con l'occhio anche alla sanità. Gli attori sono tantissimi, io spero che nessuno si offenda, magari ho dimenticato qualcosa, vanno da un centro di coordinamento che era nato qualche anno fa per iniziativa con il dottor Piazzi, eccetera, di mettiamoci lì e cerchiamo di vedere cosa si può fare per il controllo dell'anzare in ambito urbano dal punto di vista sanitario. Tutto il ruolo dei clinici, laboratori di riferimento, non solo per la gestione della malattia ma anche dell'informazione che ci giunge, senza quello andiamo poco lontano. Poi all'interno delle ASL, li ho già nominati, diciamo l'area umana e l'area veterinaria che sono coinvolte nella gestione delle sorveglianze e nella gestione degli interventi, più l'istituto esoprofilatico, laboratori di riferimento, l'IPL, il centro di medicina di viaggio, questi sono tutti, ce ne sono anche altri che possono o concorrono un pochettino nella gestione di quello che è il tema della sorveglianza e dell'intervento. Poi per ogni malattia, e qua io non sono sceso nei particolari, nei diagrammi di flusso, come si fa e come non si fa, perché non è assolutamente il caso, però per ogni malattia possiamo individuare dei punti di intervento che seguono anche la sorveglianza e che ce li monitorizzano. Ad esempio abbiamo Dengue e Cicungunia, certamente il grosso ruolo qui da noi non è la sorveglianza, almeno per il momento che so che possa essere quella veterinaria, ma certamente sorveglianza entomologica, sanitaria umana, sorveglianza entomologica, l'intervento di lotta alle zanzare, l'intervento preventivo della medicina dei viaggi, l'informazione della popolazione, sono tutti elementi che dobbiamo tenere insieme, se no ognuno preso di per sé non riesce ad agire questo. Noi, e questo è testimonianza, questa sala qui, cominciamo a metterci in rete, anche oltre la parte sanitaria, cominciamo anche a cercare di prevedere ed altro, certamente molta strada c'è ancora da fare, anche poi sulla operatività, perché è la parte di cui mi occupo io, dell'immediato, cosa predisporre strumenti per il futuro e intervenire anche nell'immediato. Ad esempio, sempre in questo caso qua, parlo di Cicungunia e Dengue, sorveglianza dei casi, flussi normali, noi abbiamo, semplicemente con il dottor Piazzi, come centro di coordinamento, abbiamo istituito un ulteriore flusso, che è quello, vabbè, questi in verde sono un po' le attività che intervengono, se notiamo qualcosa. Certamente il centro del sangue, un centro qua con il dottor Piazzi, è uno degli elementi che vengono coinvolti nel caso di casi autoctoni o di prevalenze particolari, e d'altro per le trasfusioni. Ma, adesso, quello che mi interessava comunicare, ad esempio, i nostri nodi simi, quando intercettano un caso, o noi, no, li riceviamo dai nostri nodi simi, tramite Ipla interveniamo in presenza di un caso, con una valutazione, se questo caso abitato, è rimasto in casa per più di tot tempo, no, con la viremia, se viene valutato in base a mappature del territorio a conoscenza, se è presente il vettore, no, oppure si va a vedere se c'è il vettore, e si attua un po' di disinfestazione. Il tentativo, ovviamente, è quello di ridurre quella parte lì, che si diceva prima, importazione del virus, la sfortuna, seppur improbabile, che arrivi la zanzara e si instauri un qualche caso autoctono ed altro. Queste sono le cose che si possono fare. Poi tutti i flussi operativi, trovate anche un poster ed altro di là, ma voglio dire sono meno interessanti in questa sede, tutta, diciamo, la costruzione per far funzionare la macchinetta. Ci sono altri aspetti che sono invece molto più complessi, da sorvegliare e anche da intervenire, che sono, voglio dire, la parte, ad esempio, in cui intervengono più ospiti, più, nel caso della West Nile, ad esempio, gli arbovirus in genere, che, come vedete qua, un po' riassunto, hanno numerosi snodi di possibilità di trasmissione ed altro, sono stati già nominati e spacchettati negli interventi precedenti, e non li sto a ripetere, ma anche qua, per ogni, in ognuno di questi snodi c'è chi osserva. Il metterlo insieme ci permette poi di orientare la lotta alle zanzare, che è l'abbattimento, è lì, il dove, il come, il quando, tutte le tecniche, le tecnologie, le conoscenze, per l'abbattimento dei vettori, e per la parte umana, sorveglianze speciali, sorveglianze anche veterinarie incrociate, perché poi, diciamo, le sorveglianze veterinarie, ad esempio, guardano, se si alza il livello di diffusione, guardano anche tutte le persone a contatto agli allevamenti, ci sono tutte queste interazioni. La medicina dei viaggi, la medicina dei viaggi è uno strumento importante, forse sottoutilizzato, e forse dovrebbe riuscire a non, cioè a moltiplicare ulteriormente l'intervento, che non sia solo su, no, sul viaggiatore che arriva, ma farsi carico dell'informazione un po' più generale sulla popolazione, ma anche su, l'abbiamo visto, come sono stati tutti i vari esempi, anche di brochure, eccetera, l'informazione non è una cosa facile. Facciamo tante cose, c'è tantissimo da migliorare, cioè da rafforzare di sicuro la fonte informativa, il sospetto diagnostico, ridurre i tempi, avere maggiore precisione, o addirittura la segnalazione di alcune patologie, dobbiamo rafforzare l'intervento del controllo del vettore in presenza di casi importati, perché salto subito all'ultimo punto, è anche una palestrina che comunque ci dovrebbe permettere di fare una cosa essenziale, un piano di azione per la gestione dei eventuali focolai autoctoni. Noi abbiamo tante riflessioni, tante cose scritte, c'è da però una struttura di intervento, vabbè che ci possiamo fare riferimento a chi ha combattuto la cicungunya in Emilia, le esperienze nazionali, però sono attività piuttosto grosse. Naturalmente un aspetto molto importante, di cui oggi si era, non so come dire, un po' trasversale, ma è nominato fino in fondo, per quanto riguarda le politiche di prevenzione, sono il coinvolgimento dell'amministrazione pubblica. Cioè senza il coinvolgimento dell'amministrazione pubblica, con il coinvolgimento della popolazione, noi riusciamo a fare molto meno di quello che si potrebbe. Si potrebbe fare molto sul controllo del vettore, io penso soprattutto quello che è in ambito urbano ed altro. C'è chi la chiama educazione sanitaria, chi la chiama informazione, chi la chiama gestione del comune, di queste cose, ma comunque è un elemento centrale. Purtroppo abbiamo segni, ma anche qua recentemente, crisi di qua, crisi di là, eccetera, che addirittura quello che si stava facendo, addirittura si va spegnendo, non si dovrebbe fare di più, se si fa di meno. Poi certamente un miglioramento del coordinamento degli attori, perché quello che vi ho detto, io ho un po' accennato, spero di non avervi confuso, ci sono molti punti di contatto, ma il coordinamento è un'altra cosa. Lì ci sono ancora molti spazi per migliorare, di mettere insieme tutte le varie professionalità, e addirittura, nel senso della previsione, come oggi, riuscire ad allargare la visione ad altri elementi che non siano solo quelli classici nostri di osservazione delle malattie. Oltre alle necessità ci sono molti ostacoli, sono già stati detti, io li riporto qua anche un po' polemicamente certe volte, però una cosa, un aspetto anche culturale. Io me ne accorgo da tempo, lavorando in un settore che richiede sempre e comunque l'interazione tra più soggetti, più professionalità, figure, eccetera. Tante volte c'è l'incapacità di gestire, cioè l'incapacità o la difficoltà a gestire la complessità. Si pensa che la semplificazione, l'autonomia nel senso di isolamento, ed altro, facilite. non è che la complessità rappresenta una difficoltà talvolta, una cosa complessa può anche essere facile. Di sicuro, è una battuta mia, di sicuro se noi semplifichiamo qualcosa di complesso la rendiamo inutile o comunque difficile da fare. Secondo me la complessità, oggi siamo riusciti a parlare, a parlare dalle ere geologiche, a questo mio intervento molto, come dire, operativo, di indicazione di quello che si fa, si è riuscito a tenere insieme. Se riusciamo a ribaltarlo poi nell'operatività, secondo me è molto facile. Certamente, poi c'è la percezione del problema, il decisore, il decisore, al di là di quelli che sono venuti qua, che hanno capito comunque, probabilmente, un pezzo di importanza del problema, ma il problema è comunque anche metodologico, il decisore talvolta non ha la percezione di necessità, percepisce quella che è la necessità di quello che talvolta grida più forte, oppure la necessità di dare un quadro di priorità. Abbiamo tantissime informazioni di tutti i tipi, provengono non solo dalle sorveglianze speciali, ma di previsioni, di studi ed altro, dobbiamo essere in grado di porre anche, nell'area delle zanzare, ma anche loro inserite nel contesto più generale delle malattie, dobbiamo essere in grado comunque di farci forza di un ragionamento molto chiaro, lucido, di individuazione delle priorità, e trasparente, perché se no andiamo anche lì poco lontano. Risorse umane, risorse umane e economiche, sappiamo com'è la situazione, e lasciamo perdere. Purtroppo l'unica strada da percorrere non è sperare in un aumento di risorse, oppure star fermi, perché si va solo indietro, come si diceva all'inizio di questo incontro, si va solo indietro, o troviamo noi nuove forme, strategie, oppure non sopravviviamo. L'ultima cosa, che è già stata detta anche prima, è che comunque le nostre difficoltà non sono risolvibili da scappatoie emergenziali, diciamo, magari con l'aiuto del giornalista, o approfittando del lancio del giornalista. Gli esempi non mancano, noi dobbiamo riuscire sempre comunque a mantenere molto chiaro quello che è il contesto, l'impatto di salute, la valutazione d'impatto anche sui sistemi sanitari, sui costi, le previsioni che facciamo per poterci fare una scaletta che sia leggibile, non rincorrere o farci rincorrere, poi da, non le sto a nominare, da tutta una serie di emergenze che abbiamo vissuto, che ci hanno destrutturato fortemente, almeno per quanto riguarda la sanità umana, hanno destrutturato fortemente, penso all'uso dei vaccini, dopo la famosa pandemia, con una gestione secondo me poco corretta, c'è stato un calo di adesione ai vaccini, perché è stata fatta male, gridata, sconclusionata e poi mille motivi, però è per quello che dico, anche questo, forse il parlarci insieme ci fa capire un po' bene come gestire tutto, io non dico di più, magari eventualmente ci, nella discussione successiva. Va bene, grazie Roberto.